Eccoci a Terracina e Lazio con Giovanni Mizzoni, direttore tecnico MMQ, cosa ci racconti di questo stage secco con lo Sciclub? Ciao Pets, siamo sul lungomare litorale laziale, Terracina precisamente, questo è un modulo dove noi andiamo a strutturare diverse attività sotto altri punti di vista, quindi cerchiamo di coinvolgere i ragazzi in un contesto diverso, da quello dello sci in montagna, dove andiamo a svolgere sci nautico, preparazione atletica in spiaggia, escursioni e diverse attività in un contesto diverso, andiamo a creare sicuramente gruppo, è una cosa molto importante per i ragazzi, stiamo insieme in un contesto diverso e ci divertiamo. Lo sci nautico è una cosa divertente, alla fine anche dal punto di vista dell'approccio e lo sci per certi versi può essere anche indicato? Sì, diciamo che è un qualcosa come transport motorio anche interessante, non è del tutto proiettato in quello che è il nostro sport effettivo, però è variare, è importante per i ragazzi, crescita e acquisizione di nuove esperienze motorie è sempre una cosa interessante.